Presidente Lolli, risultati semestrali per quanto concerne l'industria abruzzese, qual è la situazione? C'è questa ripresa o è ancora evidente la crisi? Adesso parlare di ripresa è una cosa eccessiva, c'è diciamo qualche segnale positivo, c'è però perdura, d'altra parte in Abruzzo come nel resto d'Italia, perdura il quadro che è quello di un quadro veramente drammatico e pesante. Naturalmente noi dobbiamo sapere che questo quadro opera in una regione in cui il tessuto industriale è molto vasto, molto diffuso e anche forte su alcuni settori. Quindi adesso la nostra strategia dovrebbe essere quella di concentrarsi, di concentrare le politiche, gli aiuti, i sostegni a quella parte di industria in difficoltà certamente, però io penso che noi sbaglieremmo se ci dedicassimo semplicemente alle aziende in crisi. Noi ci dobbiamo dedicare molto alle aziende che stanno bene, perché è fondamentalmente dalle aziende che stanno bene che possono venire quelle indicazioni di ripresa che poi aiutano l'intero sistema. Presidente Angelucci, c'è questa ripresa industriale nella nostra regione oppure no? Siamo ancora in piena turbolenza? I dati sono noti e non è che ci discostiamo tantissimo dai dati nazionali. I due elementi preoccupanti sono il saldo negativo tra le imprese che chiudono e che aprono e gli investimenti che stendono a ripartire. Qui torniamo sull'argomento che sempre noi ogni volta ribadiamo, che non ci sono le condizioni. Se non creiamo le condizioni per poter investire su questa regione non avremo di nuovo una ripresa adeguata. Cosa chiedete alla politica? Ma io sto vedendo in questi giorni si torna a dibattere sul discorso degli idrocarburi per fare un esempio. Io ho sempre sostenuto che ci sono normative che regolano gli investimenti o qualsiasi tipo di progetto si voglia fare. starlo autostocolare a prescindere non mi sembra la cosa migliore.